Siamo tornati sulle pagine di Vtube, oggi retrospettiva e parliamo di orgoglio italiano perché si parla dei Doomsword, brevemente band di Gallarate, quindi del nord, che si forma nel 1997, rilascia quasi subito praticamente un demo intitolato Sacred Metal e nel 1999 parte alla grande con il full desordio che è il primo dei cinque che finora hanno rilasciato, adesso è un bel po' che sono fermi e parliamo del disco ammonimo che si chiama appunto Doomsword. Subito che l'esordio della band, al netto di un paio di ingenuità che ci stanno all'interno di un disco di esordio, al netto di appunto di questa ingenuità a livello magari di produzione o di alcune scelte vocali, si tratta comunque di un sostanzialmente un miracolo, un quasi capolavoro di heavy metal puro e semplice, di epic metal puro e semplice e diventa importante in questo caso secondo me riconoscere una cosa, ovvero che stiamo parlando di un esordio del 1999, in quel periodo vigeva ancora quello che era lo strapotere del power metal di matrice scandinava, quindi gli Stratovarius ed Equipollenti la facevano ancora da padrone, l'avrebbero fatto in realtà ancora per poco e proprio nel 1999 i Doomsword se ne escono con un disco che è l'esatto opposto di quel genere lì, quindi sostanzialmente ha anche un disco anticommerciale al massimo il che non è davvero una cosa da poco, quindi mentre, e questo in realtà è bello di Doomsword anche, un gruppo che si è sempre fatto i cazzi suoi, ha sempre fatto quello che voleva fare rimanendo anche molto spesso comunque lontano dai riflettori, ciò comunque non gli ha impedito di fare un certo successo o comunque riscuotere i favori degli amanti di certe sonorità, però appunto il bello di Doomsword è che si capisce che a loro interessa la musica, tutto il resto è è inutile, tutto il resto sono chiacchiere e quindi appunto sul finire degli anni 90 se ne escono con un disco che era assolutamente lontano da quelli che erano i gusti perlomeno nel metal del periodo e quindi mentre tutti andavano a fare la gara a chi erano più veloci, a chi era più pulito, a tutte produzioni asettiche eccetera eccetera, i Doomsword invece vanno a ripescare a 15, quasi 20 anni prima dall'epic metal dei Manowar, quelli del secondo disco in particolare, quindi quelli un po' fino più Doom, vanno a ripescare da Manila Road, dei Tiritangol, qualche cosina ogni tanto dai Warlord, dei Procasserm, quindi andiamo soprattutto a pescare dalla scuola americana e il risultato è un esordio col botto, il classico fulmina c'è il sereno, non solo all'interno del panorama e di metal italiano che ai tempi latitava abbastanza, ma in generale, quindi definendo, cercando di descrivere un po' il primo disco di Doomsword diremmo tranquillamente che si tratta di un epic metal estremamente true, molto da dei forti, delle forti influenze Doom, tant'è che si può, si possono tranquillamente definire come epic Doom, che lascia da parte la melodia che non è interessato, non sono mai interessati i Doomsword, se non forse adesso negli ultimi dischi non sono interessati alla melodia facile, alla melodia semplice, a quella immediata, sono più interessati a un heavy metal più, comunque più crepuscolare, più cupo, un po' più riflessivo, e questo lo fanno già comunque alla perfezione all'interno di Doomsword, che è un lavoro all'interno del quale troviamo già alcuni dei classici comunque della band, uno su tutti, Ends Deep, terzo pezzo del disco che rappresenta la summa del Doomsword pensiero ed è tuttora comunque uno dei cavalli di battaglia della band. La performance del gruppo è buona, seppur si tratti di una line-up che già nel successivo sarà parecchio, parecchio rinnovata, così come è buono il lavoro dietro al microfono di Nightcomer, anche se io tendo a preferire per timbro più che altro Deathmaster, che in questo lavoro lo troviamo dietro la chitarra. Però per il resto è davvero un disco eccezionale, pregno di atmosfere, atmosfere cup e atmosfere drammatiche e che ha pochi punti deboli, se non appunto questa ingenuità, la produzione poteva essere migliore, qualche scelta vocale potrebbe essere opinabile, ma nel complesso, stiamo parlando di un esordio da parte di una band praticamente a quei tempi sconosciuta, che però già voleva fare i cazzi propri e che andava assolutamente controcorrente, ma nonostante questo hanno avuto ragione i Doomsword, perché loro comunque, vedrete, sono riusciti a continuare il loro percorso mantenendo livelli sempre comunque alti, quindi resistendo a mode e anzi in realtà andando probabilmente, perlomeno in Italia, a fare da precursori, ad un certo, a questa riscoperta di suoni un po' più, un po' più old school, perché loro lo facevano già molto prima di altri, arrivati più di recente, per cui esordio col botto nel 1999 con il disco omonimo Doomsword. Sono appena tre anni, la band da Underground Symphony, etichetta per la quale usciva il full d'esordio, la band passa alla Dragonheart, quindi rimane comunque sempre in Italia e rilascia il secondo disco, Rissound The Horn, che dico subito, secondo me è il loro capolavoro, o perlomeno comunque è il disco al quale io rimango più affezionato, anche perché, vabbè, è il primo, è il disco con cui effettivamente li ho scoperti. Siamo nel 2002, la line-up viene decisamente rinnovata, perché lascia Nightcomer, sostituito appunto dietro il microfono da Deathmaster, che prima era le chitarre, e arrivano alle chitarre Guardian Angel, secondo è The Forger. Rissound The Horn è un disco più quadrato rispetto al predecessore, più granitico, più roccioso, e per certi versi probabilmente leggermente più ostico, almeno nei primi ascolti, perché mentre nel primo ad esempio i Doomsword riuscivano anche a riportarci ogni tanto ad alcune cose delle New Wave o British Heavy Metal, c'era qualche duello di chitarra, qualche fraseggio, qualche canto di chitarra, che potrà ad esempio anche far pensare ai chitarre duellanti di gente come Iron Maiden. Qua l'approccio si fa un po' più ostico, più pesante, ancora più cupo, eppure è un disco che è incredibile, è fenomenale in tutto e per tutto, perché migliora anche la produzione, i suoni di chitarra sono decisamente superiori, e oltre alle band citate come influenza nel primo lavoro, qua troviamo anche ad esempio, io ci ho sentito in un paio di pezzi anche i Bathory, quelli ovviamente del periodo Epic, da Hammer Art in Poe, ma soprattutto direi quelli di Blood on Ice, e li potete sentire in Shorts of Vinland, che è il pezzo che apre il disco all'insegna dell'epicità più pure e semplice, un pezzo tra l'altro non particolarmente pesante, ma dall'incedere inarrestabile, oppure troverete sempre i Bathory in alcune scelte, nelle chitarre pulite, nelle chitarre classiche, acustiche e della conclusiva title track, che è anche uno dei pezzi più veri del disco, e anche il pezzo più strutturato del lavoro, con i suoi otto minuti e mezzo di durata. Oltre a questo comunque appunto teniamo conto che si tratta di un disco decisamente quadrato, ma non quadrato quanto il successore secondo me, che ha nelle chitarre la propria arma principale, chitarre che alternano momenti decisamente più compressi ad altri dove il riffing si fa un po' più un po' più cesellato. Abbiamo una serie di brani, uno più bello dell'altro, Short of Vinland, All Harding to Battle, la Monica Trek, The Doom Sword, che è il terzo pezzo del disco, è puro epic, Doom, fatto con tutti i crismi, con un ritornello altamente evocativo e un cambio di tempo all'altezza dell'assolo meraviglioso, sia il cambio di tempo che l'assolo, con un'ottima appunto prova vocale di Death Master, ma ancora bellissima The Youth of Film & Cool, con un riffing che riprende alcune da rincedere quasi celtico. insomma, un disco che riesce a bilanciare bene quelle che sono le anime della band, mantenendo un'oscurità di fondo, una drammaticità e una vocatività di fondo notevoli, filtrandole comunque con una rocciosità e una pesantezza e compattezza che si fa via via sempre più importante man mano che i Doom Sword vanno avanti con la loro carriera ed effettivamente si nota questa maturazione in fase di songwriting, perché abbiamo sicuramente una band che è più consapevole dei propri mezzi e sta imparando oppure ha già imparato come utilizzarli al meglio. Sicuramente molto fa anche il cambio dietro al microfono da parte mia, quindi ritrovare Death Master al microfono secondo me è stato notevolmente importante, perché il suo timbro, che è abbastanza diverso in realtà da quello di Nightcomer, secondo me è più evocativo e ha più colore in un certo senso. Nonostante questo va detto che sia Death Master che Nightcomer i Doom & Air non sono dei cantanti eccezionali, non sono dei cantanti tecnicissimi, però se andiamo comunque a pensare anche alle band che influenzano il sound dei Doom Sword, se noi togliamo ad esempio gente come David DeFace e Eric Adams, che erano dei mostri di tecnica, dei mostri di bravura, e andiamo invece a vedere quei cantanti epic degli anni 80, quindi Mark Shelton oppure Bobby Kimball degli Omen, o il cantante di Siri Tangle, erano tutti cantanti che non facevano della tecnica sicuramente le proprie armi principali, nonostante Kimball fosse uno che in realtà aveva studiato ecco, però erano cantanti che sia voi per timbro, voi per presenza vocale, voi per esagerazioni anche vocali, pensiamo appunto ai Siri Tangle, davano quella personalità maggiore alla proposta della band, impossibile pensare di Siri Tangle con un altro cantante, così come Lion, eccetera eccetera eccetera, stessa cosa per i Doom Sword, l'epic metal è un genere che ha bisogno prima di tutto di atmosfera, bisogno di evocatività e Death Master è assolutamente capace in questo e secondo me è il cantante perfetto per il Doom Sword sostanzialmente, quindi insomma siamo nel 2002 e la band Gallarate rilascia secondo me il suo album più bello, un piccolo capolavoro del genere di cui tutti noi italiani dovremmo essere assolutamente fieri e grati, che se non avete ancora sentito è giusto, direi che è giunto il momento di recuperarlo. Resound the Horn del 2002. Ma non sono ancora contenti i Doom Sword perché ad appena un anno di distanza rilasceranno un altro grandissimo lavoro che è il Let the Battle Commence 2003. Let the Battle Commence è un disco ancora più monolitico, più compatto e quadrato del suo predecessore e questo è probabilmente quello che lo rende leggermente, ma proprio leggermente inferiore, perché forse va a perdersi qualche cosa, un pizzico di dinamismo in più gli avrebbe fatto comodo, ma si tratta in ogni caso di un lavoro eccezionale ben al di sopra della media italiana, ma comunque anche europea in quel periodo lì, perché comunque siamo nel 2003, la band sta viaggiando a pieno regime in questi anni. Un concept album che ci parla sostanzialmente dell'assedio di York da parte di Ivory Senzossa, figlio di Ragnar Lothbrok, sì quello di Vikings sostanzialmente. Nel farlo, nel raccontarci in questo momento, questo episodio della storia, i Doom Sword, che praticamente sono gli stessi del disco precedente, si rendono sempre più pesanti, sempre più intransigenti. Nel Scatoliscio è comunque un album eccezionale, un album intelligentissimo e scritto con buon gusto. Sicuramente è anche più ostico del predecessore e sarà l'ultimo particolarmente ostico, perché poi dal successore i Doom Sword faranno sempre più attenzione alla melodia. Qui la melodia è messa in secondo piano, se non in un paio di passaggi, però in ogni caso basterebbe comunque la tripletta iniziale a mandare a casa gran parte delle band che si definiscono true, epic, vatte la pesca. perché già Ethan Assault, che apre con i suoi otto minuti e spara il lavoro magistrale nel suo alternare arpeggi atmosferici a esplosioni metalliche incredibili. Assault, peraltro, stupendo, ottimo il ritornello in questo caso. Apre il disco in realtà è il pezzo migliore insieme a quello che viene dopo, a Wadden's Reign e a My Name Will Live On, che chiude il lavoro all'insegna dell'epicità più pura, più dura e pura. Poi, tra l'altro, My Name Will Live On sarà il nome del disco successivo. anche in questo caso la produzione, secondo me, è di assoluto livello e forse il disco soffre leggermente nella metà perché davvero questa tendenza a diventare sempre più quadrati e monolitici rende probabilmente il sound un po' meno colorato e a tratti leggermente più prevedibili, anche a livello di struttura dei brani. Ma, in ogni caso, io direi che questo non è... tu non puoi dare meno di un 8 o di un 8,5 a un disco di questo tipo perché è quello che rende grande il Doomsword è la capacità di evocare immagini, di riportarci a tempi passati senza vorpelli, senza dover andare a pescare altrove, al di fuori del metal, ma rimanendo sempre con due chitarre, basso, batteria, voce, tutto estremamente classico ma non per questo banale o ordinario ho già sentito perché alla fin della fiera, ormai giunti al terzo lavoro, i Doomsword hanno ormai creato un sound che è assolutamente riconoscibile certo, all'interno del sound trovi qualche cosa delle band con cui siamo tutti cresciuti, no? lo troviamo, lo sentiamo, lo siamo in grado di percepirlo ma l'amalgama creato dalla band di Callarate è ormai assolutamente riconoscibile dalle prime note poi anche appunto, tra l'altro, per la voce di Death Master che è assolutamente riconoscibile per cui, insomma, terzo disco nel giro di praticamente quattro anni, nemmeno cinque anni e terzo centro per i Doomsword che stanno vedendo consolidarsi il loro status tra gli amanti di questo tipo di sonorità passano poi quattro anni, siamo nel 2007 quindi questa volta ci mettono un po' di più i Doomsword a uscirse con il nuovo disco e arriva ed è la volta di My Name Will Live On, quarto album ancora una volta per Dragonheart e con un piccolo cambio, un paio di cambi di line up ovvero l'entrata alla chitarra di Sacred Heart che sostituirà Garden Age al secondo e poi arriva Gate al basso mi ricordo che quando uscì il disco un po' di gente si lamentò nel senso che era rimasta un po' delusa in realtà adesso con il passare del tempo, insomma, sono già passati dodici anni da questo lavoro mi pare che un po' sia stato rivalutato e direi anche che è giusto così perché è vero ci sono dei cambiamenti a livello musicale però sono cambiamenti comunque relativi si nota sicuramente che cosa rispetto all'Ed Battle Commence si nota un'apertura a livello di sonorità e le sonorità si fanno un po' meno cupe e forse leggermente più epiche e si nota, questo sì, già dal primo ascolto un'attenzione maggiore alla melodia è sicuramente il disco più accessibile della band che è stato fatto fino a quel momento dove i Doomsword vanno a recuperare alcune scelte melodiche alcuni atteggiamenti già presenti nel primo disco e li filtrano un po' con alcune scelte ritmiche invece di Rissound the Horn e oltre a questo bisogna notare comunque una minore presenza di quella che è la componente Doom a favore di un epic metal più propriamente detto a stupire infatti è anche la presenza della prima speed song della band che è Still Of My Axe che tra l'altro in realtà è assolutamente riuscita è una gran bella canzone che ci mostra comunque i Doomsword dalla ricerca comunque anche di altre vie e altre soluzioni e credo che giunti al quarto disco uno se lo possa comunque permettere come un artista un artista è giusto anche che provi determinate cose e si renda conto provi determinate vie e si renda conto di quella che può fare più al caso suo in un certo periodo sì io sono un purista per carità però a patto che non si facciano delle merde in mani o si snaturi completamente la proposta rimango comunque aperto a sperimentazioni o comunque più che sperimentazione all'ampliamento ecco delle sonorità o ampliamento dell'attenzione verso determinate soluzioni che prima potevano non essere mai state prese in considerazione da parte dell'artista e Still Of My Axe è un gran bel pezzo che è insalito all'interno della tricklist funziona alla perfezione e ci mostra il Doomsword capaci anche su altri territori quindi dicevamo un disco sicuramente più accessibile più melodico un po' più ruffiano più mainstream relativamente e che vede anche un abbassamento medio della durata dei pezzi nonostante comunque non manchino dei brani un po' più lunghi detto questo basta comunque già l'Opener Death of Erdia l'epicissima Gergovia con un inizio quasi anni 70 con le chitarre acustiche oppure il dittico finale a mandare a casa gran parte dei gruppi italiani sicuramente del periodo e dei gruppi dediti all'epic My Name Will Yvonne secondo me è un ottimo disco un grandissimo lavoro da parte di una band che per quanto mi riguarda continua in un certo senso a stupire anche questa virata comunque che abbandona la monoliticità l'epic doom quadrato del disco precedente a favore di un sound è una proposta maggiormente dinamica dal mio punto di vista e merita di essere promossa assolutamente per cui My Name Will Yvonne quarto disco e quarto centro per la band di Gallarate e poi cosa succede? succede che i Doomsword concludono per il momento la loro carriera quindi con il quinto disco siamo nel 2011 ed esce ancora una volta per Dragonheart di Eternal Battle a molti non è piaciuto affatto come disco molti sono rimasti delusi e va detta una cosa secondo me non è un brutto lavoro assolutamente no se questo è un brutto lavoro probabilmente dobbiamo tacciare come merda il 90% della roba che ci propinano al giorno d'oggi però è sicuramente il lavoro più debole della band probabilmente ha inciso anche l'abbandono di The Forger quindi è rimasto sostanzialmente la chitarra solo Secret Art che era entrato in line up nel disco precedente quello che però è interessante comunque rende il disco piacevole e anche diverso rispetto ai suoi predecessori è un ulteriore snellimento a livello di struttura dei brani e si nota come in questo lavoro ancora una volta la componente più heavy metal classico prende il sopravvento classico comunque epic ed è sicuramente il disco all'interno del quale l'influenza dei Manila Road prende effettivamente il sopravvento lo si nota già dall'opener già dai primi due pezzi si notano alcune scelte vocali alcuni... come sono impostati alcuni core che riportano per forza di cose alla band di Mark Shelton ma d'altronde gli stessi Doomsworld non hanno mai fatto mistero dell'apprezzamento e della stima che hanno nei confronti della band americana è un disco particolare del Battle Commence secondo me sensibilmente diverso rispetto ai predecessori che per carità è sia un bene che un male quindi abbiamo ancora una volta i Doomsworld che cercano comunque di scostarsi di provare comunque nuove cose mantenendo comunque sempre un approccio che è basato sull'edimentale classico per cui non è che uno non può andare a dire ah ma si sono snaturati eccetera eccetera nulla di tutto ciò certo i diamanti dell'Epic Doom più puro per lo meno quello dei primi tre dischi possono rimanere giustamente un po' perplessi o comunque spiazzati ai primi ascolti però se ci si ferma un attimo a ragionare se si ascoltano i brani come si deve al di là di quello che è il passato della band ci si rende conto che la qualità è ben presente anche in di Eternal Battle in misura minore sicuramente perché non è a livelli di Sound The Horn né di Let's Battle Commence nemmeno del predecessore per non parlare appunto dell'esordio forse un disco di transizione difficile dirlo perché in realtà la band ormai ferma da otto anni per cui siamo nel 2001 è uscito nel 2011 ormai siamo nel 2019 e ancora non è uscito nient'altro per cui potrebbe essere un disco di transizione bisognerà capire che cosa succederà con il nuovo lavoro quando uscirà se uscirà non è dato sapere un disco che poi comunque va detto soffre un po' di una produzione non all'altezza che non riesce ad esaltare sicuramente il lavoro di chitarra come dovrebbe però in ogni caso non credete questo è un mio punto di vista non credete a chi definisce Let's Battle Commence un buco nell'acqua no non è un buco nell'acqua è un disco sicuramente non ai livelli di predecessori ma comunque di buonissimo di un buon livello ecco certo se una band come i Doomsworld ti abitua a produzioni di livello ottimo o anche di più in alcuni casi poi uno si abitua e allora si aspetta sempre il discone della Madonna quando non è possibile una cosa del genere chiaramente perché comunque i Doomsworld sono artisti sicuramente ma sono anche esseri umani per cui anche lì l'ispirazione va su, va giù poi risale poi si mantiene stabile insomma non si può pretendere sempre il capolavoro ogni volta che esce un disco però detto questo date comunque un ascolto a The Eternal Battle come a tutti chiaramente i lavori dei Doomsworld e secondo me è molto importante nel loro caso davvero metterli in fila e partire dal primo nel caso non avete mai non vi siete mai avvicinati alla band di Gallarate partire dal primo per vedere effettivamente come è andato sviluppandosi il suono e il sound del gruppo detto questo questo è il mio pensiero sui qui cinque dischi della band dei Doomsworld e come al solito desideroso di sentire la vostra lasciate commentare lasciate commenti iscrivetevi al canale e dite la vostra ancora una volta comunque grazie per essere stati con me ciao ciao da Vtube